Lazio-Celtic termina 2-0, il Celtic perde contro la Lazio questa partita di Champions League di oggi, 28 novembre del 2023. A segnare gli unici due gol per la Lazio è stato un unico giocatore, si tratta di giro immobile. Il giocatore è anche della nazionale di calcio italiana, riesce ad aggiungere in maniera piacevole i due gol, entrambi che arrivano nel secondo tempo regolamentari, va bene? Beh, che dire, le statistiche parlano chiaro, stranamente non sono a favore della Lazio, ma sono tutte a favore del Celtic. Più possesso di palla, molti più passaggi e per pochissimo una precisione di passaggio è più del Celtic rispetto a Lazio, ma veramente di pochissimo. Alla fine quindi diciamo che il Celtic sembra che abbia giurato meglio rispetto a Lazio, e poi Lazio ha avvento grazie ai mobili che li ha messi dentro ben due. Bene, ben due di gol, bene. Complimenti un qua Lazio, peccato, cosa ce ne pensate per il Celtic, il video termina qua, iscrivetevi al canale Narrato Italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, ciao a tutti.